c'è una cosa in cui l'italia e gli italiani sono veramente eccezionali la cucina il turismo no no caro mio il debito pubblico e stiamo toccando un nuovo record in italia sfiorati i 3 mila miliardi in questo video faremo un approfondimento proprio su questo tema perché da un lato viene da dire ma come il debito pubblico continua ad aumentare ma non mi hai detto giorgio in altri video che il debito pubblico in rapporto al pil quindi al valore dell'economia italiana sta progressivamente scendendo e si è proprio così sembra difficile da credere ma dobbiamo addentrarci e capire meglio come funzionano i conti pubblici italiani in questo video in cui approfondiremo appunto la verità sullo stato di salute dei conti pubblici italiani se non mi conosci mi presento sono giorgio peperari fondatore di piano finanziario scf società di consulenza finanziaria indipendente sono anche fondatore di vend house società che opera nel settore immobiliare sulle province di modena reggio bologna ma in questo video ho il cappello del fondatore di una società di consulenza finanziaria perché perché molti nostri clienti alla data di registrazione di questo video abbiamo patrimonio in consulenza in titoli per 42 milioni di euro circa 58 milioni di euro il patrimonio complessivo dei nostri clienti molti nostri clienti sono interessati a investire in btp quindi in titoli di stato emessi dallo stato italiano e allora dobbiamo capire cosa c'è sotto veramente alle finanze pubbliche perché alcuni dati come vedremo in questo video ricco di slide che puoi scaricare gratuitamente alla fine del video in un bellissimo pdf bene alcuni di questi dati sono contrastanti ed è difficile capire bene qual è lo stato di salute delle finanze pubbliche quindi partiamo dalla notizia di qualche giorno fa che riporta come il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 13,3 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2.918 miliardi ci avviciniamo alla soglia dei 3.000 quando arriveremo a 3.000 e lo faremo monitorando questo bellissimo orologio dell'istituto bruno leoni sul debito pubblico italiano che si aggiorna giusto per metterti un po d'ansia tipo ogni due secondi ti aggiorna sul livello del debito pubblico italiano bene quando arriveremo a 3.000 miliardi di debito pubblico faremo una diretta speciale scrivici nei commenti se parteciperai così festeggiamo tutti insieme questo grande risultato lo so cosa stai pensando se sei come chi ha fatto questo commento ma come si fa a credere a quello che dice si riferisce a me il debito pubblico la più grande truffa ai popoli non esiste ma lo fanno esistere per farti pagare gli interessi esiste non esiste oddio c'è un po di confusione in realtà esiste adesso cerchiamo di capire quali sono le dinamiche che ci sono sotto questa fotografia è stata scattata dalla banca d'italia nel documento finanza pubblica fa bisogno e debito che riporta appunto come ci sia un aumento del debito associato al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche per 11 miliardi cala la quota al 23 per cento detenuta dalla banca d'italia ok perché la banca d'italia detiene per un 23 per cento debito pubblico e più o meno rimane stabile e ci interessa questo la quota di debito pubblico allocata a non residenti quindi magari investitori esseri fondi speculativi che più o meno è rimasta al 28,8 per cento e questo è un dato che ci interessa monitorare perché più debito pubblico nelle mani di investitori esseri più potenzialmente è vittima di speculazioni scommesse contro la tenuta delle finanze pubbliche italiane che è qualcosa che raramente farebbe un investitore italiano che di solito si prende un btp e se lo tiene a scadenza invece se siamo molto esposti ad investitori esteri c'è questo rischio rischio che però è indiscutibilmente stato messo più sotto controllo perché l'esposizione italiana di investitori esteri non ho i dati qui pronti ma ne abbiamo parlato in varie occasioni in passato in altri anni è stata più elevata rispetto a quella attuale esponendoci ad un maggiore rischio qualche settimana fa avevamo commentato come siamo osservati speciali all'interno dell'unione europea proprio perché qualche settimana fa è stata comunicata all'italia una procedura di infrazione per deficit eccessivo che vedremo adesso tra poco con un documento molto interessante assieme a noi la francia il belgio la spagna e il portogallo che hanno appunto avuto un deficit sopra il 3 per cento che l'obiettivo di deficit dell'unione europea sia nel 23 sia nel 24 per deficit si intende la differenza in due parole tra quanto spendi e quanto incassi cioè quanto spendi in spesa pubblica e quanto incassi con le tasse questa procedura di infrazione era già stata prevista da giorgetti ministro dell'economia e quindi di per sé non è una novità non è una sorpresa non è un fulmine a ciel sereno però certifica una situazione delle finanze pubbliche che adesso vedremo che non è così rosea ok e soprattutto ci richiede un'analisi un po più approfondita che non la mera lettura dei titoli dei giornali in aiuto ci viene un documento molto interessante di mazziera research che si occupa appunto di ricerca indipendente e periodicamente rilascia questo osservatorio sui conti pubblici italiani che ci fa capire meglio numeri dati alla mano cosa sta succedendo perché da un lato vediamo l'abbassamento del debito in termini di rapporto con il prodotto interno lordo ma questo sembra essere un effetto ottico dato dal fatto che il prodotto interno lordo si è gonfiato a causa dell'inflazione più di quanto non si sia gonfiato il debito e quindi è una valutazione che può essere falsata dal momento che abbiamo avuto molta inflazione nell'ultimo periodo e c'è una differenza tra quelli che sono i numeri in termini reali cioè epurati dell'effetto dell'inflazione e in termini nominali infatti se epuriamo il prodotto interno lordo dall'inflazione otteniamo un 1% di crescita mentre il debito è salito del 3,8% ecco che capiamo che ci può essere un problema nella lettura dei dati nel 2023 abbiamo accumulato 105 miliardi di debiti aggiuntivi che dovranno essere finanziati con maggiori emissioni di titoli di stato su cui si saranno interessi interessi che piacciono tanto agli italiani perché appunto i btp valore sono andati a ruba che entrano in buona parte nei portafogli degli italiani quindi ottimo ci portiamo a casa del bel rendimento però dobbiamo anche analizzare il rischio ed è per questo che non proponiamo portafogli 100% di btp perché c'è questo rischio sotto quindi gli interessi che paghiamo sul debito ci sono e rappresentano una spesa annua di 78,6 miliardi di euro e cresceranno in quattro anni di 25 miliardi quindi arriveremo più o meno a superare i 100 miliardi di euro di interessi adesso mi piacerebbe che commentassimo tutti insieme come fa il debito pubblico ad essere una grande truffa ai popoli non esiste ma lo fanno esistere per pagare gli interessi il debito pubblico che viene messo dallo stato per finanziare la spesa pubblica qualunque cosa voglia dire dall'università agli ospedali alle pensioni al ponte sullo stretto se la spesa supera le entrate che vengono incassate con le tasse deve essere questa spesa pubblica deve essere finanziata con un debito il debito viene emesso sul mercato e qualcuno lo deve comprare chi lo compra lo possono comprare risparmiatori italiani fondi esteri banche la banca centrale europea o la banca d'italia questo diventa patrimonio per questi investitori quindi loro si prendono il rischio di dare i loro soldi allo stato italiano e vengono ripagati di questo rischio con degli interessi il debito non esiste ma lo fanno esistere per far pagare gli interessi ma cosa vuol dire il debito esiste perché serve per pagare la spesa pubblica e pagare le cose che abbiamo citato precedentemente e se questi soldi non arrivano da tasse devono essere finanziate con un nuovo debito che diventa patrimonio degli investitori non potremmo quindi velocemente cancellare il debito pubblico per ritornare con le finanze in ordine basta annullare il patrimonio degli investitori questo è il rischio specifico quando si comprano titoli emessi da governi che non hanno le finanze in ordine rischio che c'è meno quando le finanze sono invece in ordine il deficit è sotto controllo e il debito pubblico è all'interno di una soglia di normalità perché alcune persone raggiungono i propri obiettivi in ambito finanziario e altre persone non riescono a realizzare le loro ambizioni la differenza sta nella strategia di gestione delle proprie finanze e una strategia per definizione deve avere delle priorità da seguire quindi il tuo successo in ambito finanziario dipende dalla tua capacità di seguire le giuste priorità in ambito finanziario purtroppo questi temi non sono di dominio pubblico ma sono invece importantissimi per pianificare il raggiungimento di obiettivi finanziari qualunque essi siano per aiutarti a capire meglio queste dinamiche creare un piano per realizzare i tuoi obiettivi finanziari abbiamo organizzato una serata dal titolo dal sogno al piano che ha proprio l'obiettivo di introdurti a concetti di pianificazione finanziaria che applico in prima persona applichiamo sui nostri clienti applico nella gestione delle mie aziende e che sono alla base dello sviluppo professionale dello sviluppo imprenditoriale e anche della crescita del mio patrimonio di quello dei nostri clienti se ti interessa quindi capire quali sono le priorità da seguire non perderti questo evento che si terrà il 22 luglio alle ore 21 ed è totalmente gratuito prenota il tuo posto cliccando il link che trovi in descrizione di questo video ti aspetto il 22 luglio alle ore 21 bene ma torniamo al perché i conti pubblici sono fuori controllo nonostante il rapporto debito pil sia calante perché nei primi 11 mesi del 2023 le entrate tributarie tasse sono aumentate di 34 miliardi tasse che cittadini e imprese hanno pagato in più rispetto all'anno precedente ciò nonostante la differenza tra entrate e uscite della pubblica amministrazione è stata di 154 miliardi ancora di più di quanto avvenne nel 2022 con una differenza di 149 miliardi questo è il famoso deficit uscite più elevate delle entrate ed ecco la differenza tra le entrate e le uscite questi sono proprio i conti della serva che però ci fanno capire che un problema c'è ma se continuiamo ad analizzare l'osservatorio dei conti pubblici di mazziero research trovi il link nel pdf che puoi scaricare gratuitamente alla fine del video capiamo che appunto il debito pubblico in termini percentuali è sceso e non c'è dubbio che questa sarà la versione che verrà sostenuta dalla maggioranza del governo che vuole dire no da quando ci siamo noi il debito pubblico è migliorato in termini di sostenibilità se però guardiamo con un occhio disincantato altri dettagli scopriamo che la realtà non è come sembra perché il livello di debito in termini assoluti continua a crescere come abbiamo visto precedentemente ed è cresciuto nel 2023 di 105 miliardi è cresciuto di un miliardo in meno rispetto al 2021 però nel 2021 è stato un periodo che era ancora condizionato dagli impatti della pandemia quindi l'indebitamento è continuato a crescere in modo importante infatti vediamo come nel 23 abbiamo fatto 105 miliardi di nuovo debito pubblico e nel 21 106 ma quindi come può esistere una realtà così contrapposta da un lato sembra che il debito cali dall'altra invece non si capisce che sta ancora aumentando in termini assoluti la ragione sta proprio in quello che abbiamo anticipato precedentemente cioè come si misura il prodotto interno lordo quando ci si riferisce in termini di crescita quando si parla di prodotto interno lordo si utilizza il pil reale cioè depurato dell'inflazione mentre quando lo si pone in rapporto al debito si utilizza il pila valore correnti anche detto nominale che include quindi l'effetto dell'inflazione nel 2023 il pil a prezzi correnti è aumentato del 6,2 per cento a fronte di un debito che è salito del 3,8 per cento e il rapporto debito pil si è ridotto quindi attenzione ai dati che guardiamo che ci vengono riportati perché se consideriamo l'inflazione o non la consideriamo in un periodo come quello attuale che ha elevatissima inflazione e questo può falsare i dati perché alcuni indicatori sono calcolati considerando l'inflazione altri no e quindi facciamo un confronto pere con mele bene il rapporto deficit pil quindi quanto spendiamo in più rispetto al prodotto interno lordo resta comunque molto elevato al 7,2 per cento ed è molto lontano dal 3 per cento a cui si dovrebbe tendere in base al fatto di stabilità europeo ed è per questo che ci siamo beccati la procedura di infrazione che va bene che era prevista ma è comunque una procedura di infrazione che adesso capiremo poi magari faremo un altro video su questo tema che implicazione avrà no e ti chiederai ma perché il 3 per cento perché quei burocrati europei hanno deciso il 3 per cento e io ti chiedo ma perché in autostrada si va a 130 chilometri orari boh perché è un numero arbitrario basato sull'esperienza ok non c'è una formula matematica che definisce il perché si deve andare a 130 chilometri orari in autostrada però è un numero che fa sì che si possa andare ad una velocità ragionevole ok quindi tenendo sotto controllo i limiti ma non sono i 200 orari che magari potrebbero mettere in difficoltà i guidatori meno meno esperti ok 3 per cento perché non ho ragioni economiche a sostegno di questa tesi ma è un numero poteva essere il 4 poteva essere il 2 ma un numero all'eccesso di deficit va messo quindi a mio parere non ha un gran senso mettersi a discutere sul perché il 3 e non il 4 o il 2 il tema è che se c'è una soglia che è stata definita basata su anni di esperienza di gestione di finanze pubbliche ed esperienze condivise anche perché comunque è un patto di stabilità europeo perché comunque essendoci una banca centrale comune ci sono anche dinamiche europee che possono intrecciarsi con le dinamiche nazionali bene accettiamo il 3 per cento che è un parametro ma quando capirete che il debito pubblico non esiste e che è solo un problema dei sistemi economici tipo quello dell'unione europea no perché il debito pubblico è un problema ne parliamo e parliamo di deficit che noi al 3 per cento solo perché c'è l'euro no 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 mi dispiace gli stati uniti che non hanno l'euro e che hanno un problema di deficit molto più grave di quello che abbiamo noi in questo momento hanno un problema di sostenibilità del debito pubblico ne abbiamo parlato in varie occasioni su questo canale ne torneremo a parlare tra poco perché sono tanti i milionari americani gli economisti e persone influenti che come jamie diamond numero uno di jp morgan ray dalio numero uno di bridgewater associate il più grande fondo hedge fund del mondo che suonano l'allarme sull'indebitamento americano dicono attenzione con questo tasso di indebitamento c'è un problema di sostenibilità del debito pubblico americano è un problema solo dei sistemi economici tipo ue no ma torniamo al documento di mazziero research per anni gli economisti accondiscendenti con la creazione di nuovo debito cioè quindi chi sostiene che lo stato si debba indebitare come non ci fosse un domani hanno contrapposto alle critiche sull'indebitamento il fatto che l'italia abbia sempre avuto un saldo primario positivo e per saldo primario positivo si intende il saldo c'è la differenza tra entrate ed uscite al netto della spesa degli interessi molti dicevano guarda e tra i commenti del nostro canale questa considerazione l'abbiamo vista centinaia di volte molti dicevano l'italia ha i conti in ordine perché il saldo primario cioè non consideriamo gli interessi del debito pubblico perché se non consideriamo gli interessi sul debito pubblico le uscite sono minori delle entrate questo è il saldo primario ma questo è come misurare le calorie di un pasto senza considerare il dolce ma se tu mangi il dolce anzi spesso il dolce ha più calorie che i contorni no e giustamente mazzini research dice e lucubrazione funambolica dato che gli interessi vanno comunque pagati cioè i conti li devi fare considerando tutto no gli interessi vanno pagati quindi il saldo primario è un risultato intermedio non è il risultato finale perché alla fine se c'è deficit che tu l'abbia fatto di spesa per interessi o che tu l'abbia fatto per spesa di altro genere deficit è premesso che intanto non è sempre stato così dato che nel 2011 il saldo primario fu negativo ormai da quattro anni che la differenza tra entrate e uscite ancora prima di aggiungere gli interessi quindi il saldo primario si mantiene negativa quindi anche questa considerazione non sta in piedi sicuramente il saldo primario negativo che ha toccato un picco nel 2020 adesso è in fase di maggiore controllo ok siamo meno negativi in termini di spese maggiori delle entrate di quanto non fossimo nel 2020 però è questo che sta facendo aumentare il debito pubblico di cui adesso iniziamo a guardare qualche proiezione perché noi vogliamo capire quando arriveremo a 4.000 miliardi 3.000 non ci interessa ormai è un risultato troppo facile troppo alla nostra portata si percepisce l'ironia acida non lo so però in questo paese noi il nostro obiettivo è sempre fare meno peggio degli altri non puntare ad essere non so un paradiso fiscale con le finanze in ordine no vabbè ma questo è il sono i valori culturali che contraddistinguono questo paese in questo specifico momento storico ma si percepisce che si era già aperta la parentesi polemica ad alcuni piace quindi io nel dubbio continuo il documento di material research continua con appunto le proiezioni di crescita del debito pubblico nei prossimi anni ti lascio guardarle approfondirle autonomamente perché è molto dettagliato sono 40 slide sicuramente un bel documento molto profondo appunto che ci permette di avere una visione più chiara dell'andamento del debito pubblico siamo costantemente sotto giudizio delle agenzie di rating come peraltro tutti gli stati ok che devono vendere i propri titoli sul mercato e ci sono agenzie di rating che fanno le loro valutazioni sulla solidità delle finanze dello stato in questione abbiamo commentato qualche mese fa che standard and poor ha declassato la francia per i problemi di indebitamento che sta affrontando anche lei francia che potrebbe unirsi al fronte dei pigs no ti ricordi nel 2011 i pigs portogallo italia grecia spagna che paesi che avevano problemi di sostenibilità delle loro finanze praticamente tutti sono usciti dalla definizione di pigs tranne l'italia però se continua così la francia potrebbe unirsi a questo club prestigioso moodies a maggio ha lasciato invariato il rating per l'italia che oggi rimane baa3 e ha alzato l'outlook a stabile ok outlook vuol dire previsione a stabile prima era negativo cioè quindi vuol dire che un'agenzia di rating definisce ti dà il voto oggi e poi ti dice occhio e questo è l'outlook che se continui così la prossima volta potresti salire o scendere o rimanere stabile quindi noi siamo sempre un gradino sopra quello che si chiama rating speculativo cioè quello che viene definito bbb meno per standard and pure le principali agenzie di rating sotto quel rating lì di fatto i titoli di stato non vengono più considerati come un investimento ma come una speculazione come una scommessa dato l'elevato grado di fallimento noi siamo sempre un pelo sopra quella soglia che a mio parere per ragioni politiche perché ci sono poteri forti che vogliono che l'italia non fallisca perché se superiamo questa soglia si scatena un pandemonio a livello di cioè quello che abbiamo visto nel 2011 come volatilità sui mercati sarebbe niente se l'italia venisse declassata sotto il bbb meno perché non è la grecia che è andata sotto ed era diventata junk bond l'italia ha 3 mila miliardi di debito pubblico in giro ok quindi continuiamo a vivacchiare e mi viene in mente la frase che gli americani si dice che vivono paycheck to paycheck non sono in grado di risparmiare si mangiano tutti i loro risparmi e di fatto vivono ad uno stipendio alla volta una buona metà degli americani vive così paycheck to paycheck da stipendio a stipendio gli italiani vivono così da valutazione di un'agenzia di rating a quella successiva e quindi siamo felici che anche scope ratings nuova agenzia di rating relativamente più recente che si è unita alle grandi note come modis fitch e standard and poor anche lei ha confermato un bbb più attenzione con un outlook stabile siamo felici questo è un dato di qualche giorno fa 15 luglio 2024 in attesa della prossima revisione di standard and poor che arriverà ad ottobre in una totale incapacità di pianificare in modo virtuoso le finanze pubbliche ma visto che invece io sono ossessionato dal pianificare le finanze private le mie e quelle dei nostri clienti voglio invitarti ad un evento totalmente gratuito che si trarà lunedì 22 luglio alle ore 21 dove parliamo di pianificazione finanziaria con l'obiettivo di aiutarti a trasformare un sogno una visione che potresti avere per il futuro tuo della tua famiglia che però magari non hai ancora verificato se è fattibile o no in un piano da qui il nome da sogno a piano ed è per questo che l'azienda che ho fondato si chiama piano finanziario perché in questa presentazione parleremo proprio delle decisioni strategiche più efficaci per riuscire a realizzare la visione che hai in mente quindi prenota il tuo posto per partecipare a questo evento totalmente gratuito piano finanziario punto it slash pianificare ti saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao